Buonasera a tutti, buonasera comandante, buonasera commendatore, era per distinguere la questione dalla signora Kelly. Io sono molto emozionato perché è veramente un grandissimo onore poter interagire. Andavo nell'ambito diciamo un po' sognatore e appunto mi chiedevo come può influire il fatto di vedere la Terra da un'altitudine considerevole e poterci girare attorno. Quindi si parla di questo overview effect, ho trovato poco diciamo a livello di ricerca, però sentire da lei magari una sua esperienza mi completerebbe molto questa curiosità. Più che altro la mia è una curiosità a livello proprio pratico per capire se le persone che sono coinvolte soprattutto in più settimane, mesi nella stazione spaziale possono magari rientrare e avere veramente sconvolgimenti positivi. Non sto parlando di nulla di negativo. Si parla di questo overview effect che hanno gli astronauti, che è un po' come quello che noi abbiamo in piccolo quando saliamo su un edificio molto alto e possiamo estendere lo sguardo su un orizzonte molto più ampio. Quando uno va in orbita con lo sciatolo, con la stazione spaziale, ho parlato di circa 400 chilometri, quindi quando uno guarda giù non vede la Terra come una pallina, quella si vede alla distanza prossima alla Luna, quindi a circa 400 mila chilometri. Noi siamo molto più vicini, quindi quando uno guarda giù vede la Terra a dimensioni di continente, quindi a orizzonte a orizzonte vede l'America, vede l'Africa, vede l'Australia, eccetera. Quindi non è una distanza abissale, diciamo, tre ore di macchina se uno ci pensa, potendo guidare verso l'alto. Però è già una distanza sufficiente, come dicevo prima, per vedere molto bene la curvatura della Terra, molto bene l'immensità del cosmo e soprattutto il colore. Perché io un nero così del cielo, onestamente, non l'avevo mai visto. E per ricollegarmi, diciamo, anche alla fase di lancio, ho sempre pensato da pilota che il cielo fosse blu e che la Terra fosse scura, poi passando i centomila piedi il cielo diventa nero improvvisamente e la Terra, quando uno guarda indietro, diventa blu. Sono colori invertiti. Quindi, diciamo, quello di cui parlano molti con questo overview effect è il fatto che tu abbia la possibilità di vedere la Terra con un'altra prospettiva, con un orizzonte molto diverso rispetto al punto di vista che uno può avere su un aeroplano anche quando vola nella stratosfera. e quindi dipende molto da persona a persona. Sono delle persone che sono molto colpite da questo, altre molto di meno. Qualcuno racconta che ha avuto visioni mistiche o qualcosa di mistico, altri che non riportano niente. Ma questo può accadere per chi va nello spazio, ma per chi fa anche tantissime altre attività. credo che sia molto legato alla nostra sensibilità personale e individuale e come persona, il come uno apprezza queste cose, diciamo. Grazie.